Eccoci qua ragazzi, nuova puntata dell'Isola dei Famosi, nuovo appuntamento con Sogridi o Glissa. Come sempre valuteremo i look di Ilari Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e io a Zanicchi. Con me ci sono Mauri, esperta di gossip. Ciao a tutti. Federica, esperta di make up. Ciao a tutti. E Silvia, esperta di moda. Ciao a tutti. Allora ragazzi, iniziamo dal look di Ilari Blasi. Questa sera in scollo all'americana a schiena scoperta, stivale argentato, non ce la faccio. Mi sembrava un prendisole con gli stivali delle Space Girl, non l'ho capito, non mi è arrivato e quindi mi dispiace Ilari ma devo glissare ancora una volta sul tuo look. E ovviamente passo il voto a Federica. Allora del suo outfit mi è piaciuto il colore che richiamava molto lo sguardo e il colore dei suoi occhi, però l'abito era un abito stile 2000 con quegli stivali di tutt'altro genere, quindi io mi dispiace Ilari gliss. Due glissate per Ilari e il voto a Dima Udizio. Onestamente a me è piaciuto e mi è piaciuta anche molto la scollatura che aveva al dietro, secondo me era molto molto elegante e mi ricordava Evacante, quindi per me è promossa, sorrido. Un sorriso, due glissate e il voto è di Silvia. Sì, nonostante le sue braccia perfette per il look di stasera di Ilari devo, cioè glisso, mi piace il colore ma il taglio no. Sì, bella la schiena scoperta ma poi come se non bastasse questi stivali orrendi, cioè, ma non lo so, ma neanche per un video musicale trash, no, non ci siamo, glisso. Ragazzi sono tre glissate e quindi il sorriso di Mauri non salva Ilari questa sera. Quando è troppo? È troppo. Passiamo al look di Elettra Lamborghini che pare essersi messa d'accordo con la padrona di casa e quindi anche lei canta la strada dello scintillio. Sì, nel senso sei Elettra Lamborghini. Perché mi devo accontentare di un look così un po' banale? Non mi sento soddisfatta e quindi devo purtroppo glissare ancora una volta anche su Elettra. Quindi glisso e passo il voto a Silvia. Brava, esatto. Sì, anch'io la penso allo stesso modo per Elettra, ma non è che mi aspetti sempre cose un po' tamarre o robe così da lei, per carità, però un po' anche sì, capito? Quindi questo look un po' sobrio, normale, con qualche paillette da ultimo dell'anno, di quando avevi 19 anni, anche no. Cioè, poi va bene che hai un bel sieno gigante, però una scollatura così, cioè non c'è bisogno, senza farla pudica, però glisso. Due glissate e il voto va a Federica. Sì, ragazze, condivido tutto quello che avete detto. Non ho nient'altro da aggiungere in realtà su Elettra, se non che sta peggiorando di volta in volta, quindi mi dispiace, è glisso. Ragazzi, sono tre glissate e l'ultimo voto è di Maurizio. Anche io mi aggiungo a voi tre, anche se non sarebbe cambiato nulla, però concordo con Fede, Elettra è una parte da altissima per poi raggiungere un declino assurdo, quindi glisso. Ragazzi, sono quattro glissate e viene nuovamente bocciata con lei che all'inizio era la nostra icona di stile dell'Isola dei Famosi. Ultima donna, Iva Zanicchi. Sono un pochino in dubbio. Ok, ha provato a cambiarmi la scollatura e qualche cosa, ma non mi convince minimamente la fantasia. Per me lei sta molto meglio con le tinte unite o comunque con giochi un po' più tenui di sfumature. che queste fantasie eccessive non le donano e in questi formati un po' oversize che sceglie per me hanno proprio l'effetto mercatino del sabato. Quindi io ho la terza glissata della serata per Iva Zanicchi e passo il voto a Maurizio. Non mi ha fatto impazzire, però ho amato molto quel colletto, quindi non voglio bocciare tutti questa sera e per il colletto sorrido per Iva. Un sorriso, una glissata, il voto a Federica. Devo ammettere che per Iva sono molto indecisa perché l'outfit non mi è piaciuto, però se devo valutare la serata nel complesso sono stati degli outfit peggiori, però secondo me era un po' troppo, soprattutto per l'orecchino e quell'orecchino mi spinge a dire mi dispiace Iva, devo glissare. Iva ci hai provato, sono due glissate a un sorriso per te e l'ultimo voto è di Silvia. Ecco sì, Iva, visto che oggi mi sento di manica larga, devo dire che glisso totale. Sì, come dice Federica, per gli orecchini mixati alla camicia, il colletto sì bello, però poi anche quei fiocchetti, cioè da finta scolaretta che non sei più da giusto un paio d'anni, ma no, ma per carità, per questa fantasia, too much, ma basta, bocciata. Ragazzi, anche questa volta Mauri ci ha provato, ma è un'altra glissata per questa serata dell'isola e l'ultimo è Tommaso Zorzi. In look total white o quasi se escludiamo la camicia molto fantasiosa. Ragazzi, è vero che fa un po' narcos, ma a me è piaciuto, io non so se sto tirando fuori un'anima tamalda che non ho mai avuto, però a me è piaciuto ed è il mio unico sorriso di questa serata. E passo il voto a Federica. E appena l'ho visto ho detto wow, e wow in senso positivo, secondo me è stato l'outfit più bello della serata. Bravo Tommi, continua così. Sorrido. Grazie, due sorrisi perché stiamo diventando tutte un po' tamarre e il voto va a Maurizio. Io sono d'accordo con voi, nel senso che state diventando tamarre, ma il vestito è orribile, sembrava uscito da scarface, quindi glisso tutta la vita. Grazie, continuando da avere dei dubbi sul giudizio di Maurizio, due sorrisi e passo il voto a Silvia. Sì, ecco, appena l'ho vista infatti anch'io ho subito detto, ormai è entrato nel mood criminale e punta su questi boss, delle cose sostanze stupefacenti, cose così. Però, poi guardo gli altri, non c'è limite al peggio e quindi anche, non ho visto le scarpe, però nel complesso... Bianche e la ginnastica, snichex bianche. E dai, allora sì, pensavo che avesse messo qualche stivaletto texano inquietante, ma dai, sì, va bene. Io allora promuovo, sorrido. Grazie, sono tre sorrisi, una glissata ancora una volta, Mauri non è decisiva, quindi sorridiamo per il commaso e con questo sorriso concludiamo Oggi Sorridi o Glissa. Ci rivediamo martedì e soprattutto tutti i lunedì e tutti i venerdì sera per la diretta in nostra compagnia dell'Isola dei Famosi. Ciao! Ciao!